Buongiorno amici della Glessidra e ben ritrovati ancora una volta sul mio canale e dunque anche oggi si parla di orologi ma ovviamente lo faremo come sempre dopo la sigla dunque sono convinto del fatto che molti di voi stiano aspettando un bel video sui nuovi Rolex 2020 ma siccome altri colleghi sicuramente lo avranno già fatto e poi sapete benissimo che Rolex è un marchio che mi sta particolarmente sul cuore parleremo di tutt'altro ovvero parleremo di Baum & Mercier è uno di quei brand dei quali si parla veramente poco ma che comunque vale la pena scoprire ed soprattutto del quale vale la pena avere un orologio in collezione in questo caso parleremo del modello di un modello che fa parte della linea Hudson e ci darà una mano in questo caso una vecchia conoscenza del canale ovvero Giorgio Ippolito ma senza altro indugio diamo la parola a Giorgio che ci mostrerà questo bellissimo orologio vai Giorgio ed eccolo qui presentiamo questo nuovissimo Baum & Mercier Baum & Mercier è un'azienda svizzera fondata a Gineva nel 1830 oggi appartenente al gruppo Richmond l'orologio che presentiamo oggi è un omaggio all'art deco degli anni 40 della collezione Hampton della Baum & Mercier come abbiamo detto orologio di lusso questo orologio è caratterizzato dalla cassa in acciaio lucido declinata in tre dimensioni differenti tutti con movimenti automatici è il modello di punta della linea una versione dotata come si vede di grandata bellissima grandata e come vedete ha un impermeabilità a 50 metri il quadrante è un opalino argento a finitura gainè con cifre arabe e indici rivettati in ruterino nero come le lancette mentre la minuteria è di colore grigio sotto il 12 sono aperte le due finestrelle della grandata mentre in corrispondenza delle ore 6 si colloca e si colloca il quadrantino per il secondo fuso orario con l'indicatore di giorno e notte ad animare questo bellissimo segnatempo invece è un calibro di manifattura tt 651 con 21 rubini e 28 mila e 800 alternanze ve lo lascio osservare un po la carica automatica di questo orologio visibile attraverso il suo oblo eccolo qui l'oblo è in vetro zaffero perfettamente circolare posto al centro del fondello che svela gli accurati decori dei ponti a perlage ovviamente e poi abbiamo la lavorazione che ritroviamo anche sulla massa oscellante al decoro code geneva eccolo qui l'orologio è serrato da un cinturino in alligatore nero intercambiabile ovviamente bellissimo cinturino in alligatore un veramente bellissimo pezzo di orologeria di lusso come vedete è una curiosità la baume marzie attualmente come marchio collabora con un'importante azienda le collezioni praticamente alcune delle sue collezioni in edizione limitata hanno i modelli della shelby cobra cioè famosi per la classica auto sportiva questo è un elegantissimo segnatempo ora faremo una prova di vestibilità vedere come calza al polso un orologio di questa fattura ed eccolo qui ed eccolo qui baume marzie fantastico e dunque orologi sicuramente interessanti quelli di baume marzie e che vale comunque comunque la pena tenere in collezione prima di salutarvi volevo rivolgere un saluto particolare a davide carrafiello che fa parte del nostro del mio gruppo telegram ma del nostro per meglio dire perché nel gruppo telegram siamo soltanto 50 ma siamo molto affiotati anzi ragazzi vi esorto ad iscrivervi perché su quel gruppo si trovano tanti appassionati e soprattutto tanti amici detto questo io vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi al canale un bel like un commento seguitemi anche su instagram se vi va e nient'altro vi saluto e ci vediamo appena possibile con la clessida di emma un abbraccio a tutti quanti e ciao